parliamo della nove colli 2022 che abbiamo pensato come 60 ore di organizzare quindi evento organizzato dall'a alla z per partecipare alla nove colli tutti insieme con i due percorsi percorso lungo per chi vorrà usare i 210 chilometri 3.600 metri di slivello e per chi è un po meno allenato perché è la prima volta e vuole fare qualcosa di un po più easy che comunque il medio nove colli sono sempre 130 chilometri mi sembra intorno ai 1800 metri slivello quattro colli ci sono esatto come gestiremo questo evento 60 al loro nove colli questo evento inizierà il venerdì infatti facciamo un pacchetto di tre giorni due notti con il ritrovo il venerdì sera direttamente in hotel a cesenatico poi comunicheremo nome luogo eccetera check in e poi cena subito venerdì tutti insieme appena arrivate a cesenatico in hotel venerdì sera vi daremo le camere e distribuiremo impatti gara che avremmo richiarato noi per voi dopodiché cena tutti assieme unica tavolata di squadra il giorno dopo il sabato come si svolge invece sabato colazione tranquillamente un orario decente non all'alba perché abbiamo tutta la giornata per fare quello che è più importante il giorno prima nove colli cioè riposarsi ma sfruttiamo il fatto di essere a cesenatico quindi gita in bici di una quarantina di chilometri con roman e visita al museo di pantane esatto poi poi al ritorno da questo giretto in bici che sarà un paio d'ore con la visita alle 10 e mezzogiorno insomma una sgambata tranquilla sul lungomare ci fermiamo allo stand 60 all'ora perché i ragazzi sono a lavorare alla fiera e verremo sarà un aperitivo per il pranzo tutti tutti insieme e una foto di gruppo di gruppo al ciclo evento a nove colli dopodiché vi lasciamo pranzo e pomeriggio libero chi vuole dormire con andare in spiaggia vuole fare un po di compere girare la fiera e ci ritroviamo alla sera alle sette in hotel per un piccolo per una piccola riunione tecnica un briefing per il giorno dopo per la gestione della logistica e della gara orario della partenza orario della colazione la divisione dei due gruppi chi fa il medio chi fa il lungo insomma un po la gestione del giorno di gara poi cena tutti insieme tutti insieme si va letto presto sveglia le 4 colazione e poi verso le 5 e mezza si partirà dall'albergo per andare verso le griglie per la partenza comunque dopo vi spiegheremo bene ottimizzeremo gli orari e tutto nessun problema per arrivare a un evento del genere a metà maggio in forma ci sarà da iniziare ad allenarsi quindi già da fine mese fine novembre inizieremo con gli allenamenti di gruppo e poi inizieremo ad aumentare i chilometri passando anche soprattutto per il camp a febbraio in maremma dove possiamo accumulare un bel po di chilometri in modo da arrivare pronti a questa manifestazione che comunque è molto molto impegnativa ed è la più famosa che è più importante che c'è in italia quindi ci vediamo tutti alla nove colli esatto yes ciao